cari amici ben ritrovati come vedete stiamo entrando a eisemont di sopra e adesso girerò a sinistra per arrivare a eisemont di sotto ci sarà una salita breve e poi una discesa è una strada che mi piace fare abbastanza veloce sia la salita che sto facendo adesso siamo al 4,6 per cento di pendenza per adesso e poi anche la discesa mi piacciono le curve quindi ora mi concentro sulla strada che comincia a salire un po siamo quasi adesso 5 per cento cinque e mezzo di pendenza e poi ci sarà la discesa ci sentiamo a breve godetevi la strada con me ciao 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 E ora inizia la discesa. E ora inizia la discesa. E ora inizia la discesa. E ora inizia la discesa.